Quasi 23,8 miliardi di euro, a tanto ammonta secondo l'Istat la spesa nel 2017 per ricerca e sviluppo dell'insieme dei settori istituzionali, imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università. L'aumento è del 2,7% rispetto al 2016 con un'incidenza sul PIL dell'1,38%. Il settore privato, imprese e istituzioni non profit spendono 15,2 miliardi di euro di cui la quasi totalità, 14,8 miliardi, sostenuta dalle imprese. Le università spendono invece 5,6 miliardi di euro, le istituzioni pubbliche 2,9. Nel dettaglio la spesa cresce del 6,2% per le istituzioni private non profit, del 6% per le istituzioni pubbliche e del 2,8% per le imprese. Le previsioni fornite da imprese e istituzioni confermano per il 2019 un ulteriore aumento sul 2018. Istituzioni private non profit più 5,7%, istituzioni pubbliche più 2,7% e imprese più 0,8%.